La città del Natale 2023 ha fatto registrare 400.000 presenze nei tre giorni del ponte dell'8 dicembre. Un successo senza eguali. Alberghi e ristoranti strapieni, centro storico invaso giorno e sera, con tutte le conseguenze del caso. Chi deve lavorare lavora, mentre chi vive in centro fa fatica non solo a parcheggiare ma anche a passare. È il prezzo da pagare per il successo? Gli amministratori dicono di aver fatto tutto il possibile tra parcheggi e navette. È mancato il fronte treni, quasi uno simoro con la questione medio etruria in ballo. E poi ci sono i detrattori che indicano Arezzo come un mangimificio a cielo aperto. Ma i numeri di questi giorni mostrano che i turisti hanno apprezzato anche la cultura con chiese e musei presi d'assalto. Capienza piena per la leggenda della vera croce e addirittura record per casa Vasari il sabato con 220 ingressi. Peccato che gli orari ministeriali non aiutino. L'8 dicembre, ad esempio, la Basilica di San Francesco era aperta il pomeriggio, mentre il museo medievale è solo la mattina e ad oggi, il primo gennaio, sono previste chiusure.